Grazie a tutti. Per darvi il numero esatto di quanto incide in percentuale la merce che noi diamo alle Ollus sui 2 miliardi erotti di fatturato. E quant'è? Allora, sono riuscito a raccogliere il dato riferito al 2017. La nostra azienda ha donato 5,9 milioni di euro in alimenti commestibili ma non più commercializzabili alle Ollus. La quantità corrisponde a 2 milioni e 100 di pasti donati attraverso 200 enti beneficiari coinvolti evitando, abbiamo qui voluto fare un paragone, 1955 cassonetti di rifiuti. È una bellissima cosa. Senta, queste Ollus che vengono, basta, ecco, se io sono un Ollus e ho all'interno della mia Ollus gente che ha bisogno, devo fare richiesta all'Aspia per avere questa possibilità? Sì, è semplice, basta rivolgersi ai nostri punti di vendita. Tutti i nostri punti di vendita sono abilitati ad offrire questi prodotti a qualsiasi Ollus si rivolga a noi, quindi è semplice presentarsi nei nostri punti di vendita, ovviamente far capire che tipo di filiera intendono coinvolgere. Essendo un numero così importante, mi viene da chiederle Montalvo, ci sarà la fila per chi vuole prendere la roba per primo tra le Ollus, oppure che lì cercate di accontentare tutti in uguale maniera, perché visto che la cifra sono quasi 6 milioni di euro pari a 12 milioni di euro, c'è molta gente che viene, mi ha detto, quindi è una guerra per chi arriva prima per accapararciare un migliore oppure le dividete in maniera uguale per tutti, perché poi diventa, anche nel donare, diventa un problema anche quello. Diciamo che parlando di cibo alimentare e deperibile, le Ollus, e quindi devono già essere delle Ollus, devono essere accreditate, perché prima riferivo che vengono presso i nostri punti di vendita con dei furgoncini e questi furgoncini devono essere abilitati per il trasporto della merce deperibile, e quindi devono essere furgoni coibentati, quindi c'è tutta un'attenzione ovviamente necessaria, perché parliamo di cibo altamente deperibile, che deve essere prelevato e consegnato in determinati tempi, attraverso queste... Mi scusi, è anche usato in determinati tempi, perché se viene usato a scadenza può fare anche del male a... Sì, 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 certo, ma infatti sono tutte Ollus che hanno ovviamente una struttura organizzativa e un cliente, che in questo caso sono le persone meno abbienti, che conoscono molto bene, quindi si conosce la frequenza dei pasti, le quantità necessarie che si possano ritirare, quindi c'è un'attenzione particolare. Senta, noi siamo andati in città e siamo andati a chiedere, andare nella grande distribuzione ad acquistare è bene, male, perché... E sentiamo cosa ci dicono i cittadini. Volentieri, volentieri, grazie. Una volta si acquistava nella piccola bottega, adesso molto spesso si acquista in supermercato, ma quali sono i vantaggi di acquistare in supermercato, quali sono i punti a favore della grande distribuzione? Beh, diciamo l'anonimato di tu che scegli quello che vuoi, senza... certo nel piccolo negozio se sei conosciuto, però nel piccolo negozio c'è anche la contropartita che vende poco e quindi le cose spesso stagnano. Intanto di trovare tutto in un unico posto, poi ci sono sempre tante offerte speciali, si cerca quello abbastanza vicino a casa e conveniente. Secondo me è la comodità sul mercato rispetto a un negozio tradizionale. A volte è conveniente, a volte no, dipende se ci sono le offerte, però spesso sì. E la qualità? Anche, anche la qualità c'è. Paghi molto di meno, ovvio. Il tempo, penso che l'unico vantaggio sia il tempo, si spende meno tempo trovando più velocemente le cose e andando più sul sicuro di trovare le marche che realmente cerchi. Forse c'è più scelta. Il poter trovare tutto insieme in un solo posto. Che i prodotti sono molti, quindi non si perde molto tempo nei negozi. È una questione di tempo. C'è, per me sì. Grande distribuzione, sicuramente conveniente, soprattutto sui prodotti secchi. Invece c'è un piccolo supermercato locale comodo e quindi anche se da un punto di vista di risparmio è meno conveniente. Diciamo che è più pratico, perché si trova tutto. Io comunque cerco sempre di fare i miei acquisti ovunque, per dare un po' da lavorare a tutti, perché mi dispiace. In supermercato si trovano prodotti più vari a costi inferiori, però è anche vero che questo è dovuto a produzioni in scala con prodotti di scarsa qualità, ecco, solitamente. La prima cosa che mi viene in mente forse è il prezzo, che quindi essendo un supermercato magari ha un'offerta più varia, più ampia e i prezzi ovviamente sono ridotti, che è una bottega particolare. La bottega particolare forse ha la qualità o la ricerca del territorio che il supermercato non ha. Tutto giusto Montalvo, dalle dichiarazioni c'è chi ha detto che va per comodità, per il prezzo, l'ultima che abbiamo sedito ha detto magari non ha la qualità del negozietto, però insomma tutto sommato è buono. Tutto giusto quello che hanno detto i nostri intervistati? In termini generali direi di sì, è evidente come il cliente sia sempre più consapevole. Quello che mi preme precisare è che aziende che vogliono essere di qualità come la nostra non possono prescindere dall'offrire prodotti di qualità. Quindi quella considerazione che delle volte si fa nei grandi supermercati non si trova la qualità non ritengo sia una considerazione sempre corretta. Mi preme precisare un aspetto che secondo noi è molto importante che ha a che fare con la salubrità dei prodotti. Se c'è un tema che non si tratta spesso, vuoi perché una parte dei clienti ne è consapevole, vuoi perché c'è una restante parte che non lo è, è il tema della salubrità. Supermercati o catene di supermercati come la nostra sono innanzitutto dei garanti in termini di salubrità dei prodotti. Quindi secondo me un'azienda più o meno piccola o più o meno grande che vuole rimanere in un futuro sul mercato non può che offrire salubrità nei prodotti. Che vuol dire un sacco di controlli, un sacco di autocontrolli, un sacco di certificazioni e quello per me è mangiare bene e sano. Bene, vuol dire una garanzia al di là della garanzia. E come controlli? Da chi vengono fatti? I controlli? Sono dei specifici mezzi istituzionali, così si può dire, oppure li fate prima voi? Li facciamo innanzitutto noi. Diciamo che ci sono gli enti preposti ad effettuare dei controlli più o meno occasionali, più o meno a campione e quello è un mondo, è una categoria di controlli che c'è sempre stata e che aiutano le aziende a migliorarsi giorno dopo giorno. Ma al nostro interno non possiamo prescindere da controlli, da noi voluti, da noi impostati e quindi c'è tutto un tema di sicurezza alimentare che deve essere garantita ai clienti attraverso proprio l'autocontrollo interno nelle procedure e nella trattazione della lavorazione dei prodotti. Siamo arrivati quasi in conclusione Montallo, ho visto che sono passati questi praticamente 90 minuti abbastanza velocemente. E senta, cosa farete da grandi? Noi da grandi vogliamo… Cosa farete di bello? Perché adesso viene il bello, adesso facciamo 5 minuti così i progetti, i programmi futuri, la Despar, la Despar Italia, la Despar Europa, tutto quello che ci va dietro. Noi vogliamo continuare a nutrire questo rapporto con i territori in cui noi siamo presenti, consapevoli che più riusciamo ad offrire a questi territori più noi riceviamo. La nostra è un'azienda che sta puntando tantissimo sulla qualità e la professionalità delle persone all'interno. Mi auguro che la nostra azienda possa assumere tanti nuovi giovani perché vorrà dire che saremo in grado di aumentare il nostro fatturato e quindi dare lavoro a tante famiglie. Anche perché già 8 mila persone più o meno che ci lavorano, credo sia un numero davvero molto importante al giorno d'oggi, visto la difficoltà nel trovarlo, credo davvero vi faccia onore come azienda. Anche mi sembra di capire avete molti investimenti da fare per il 2019, quindi ancora la volontà di ingrandirvi, se è giusto usare questo termine, credo sia nei vostri pensieri. Noi abbiamo quest'anno come obiettivo l'apertura di 25 punti vendita tra punti vendita a gestione diretta e in affiliazione, ciò vuol dire tanti nuovi posti di lavoro, questo è possibile per quale motivo? È possibile perché noi abbiamo dei soci, una casa madre che creda ancora molto nell'economia italiana, crede molto ancora nell'economia italiana e ritiene che quelli che sono gli utili che per fortuna la nostra azienda riesce a fare, a sviluppare, debbano necessariamente essere subito reinvestiti per costruire nuovi supermercati, per ammodernare i supermercati esistenti e per migliorare la qualità dei lavoratori e dei dipendenti della nostra azienda. Senti, un supermercato datato, quanto tempo rimane così prima che venga ristrutturato e rimesso a nuovo? Faccio esempio un negozio, un punto vendita dell'InterSpark e lì da quanti anni rimane con la stessa mobilia, la stessa scaffalatura e via discorrendo e poi verrà rinnovato? Ha un tempo anche questa trasformazione oppure finché non va usurato del tutto? Beh, dando per scontato che la nostra azienda sta reinvestendo tutto il cash flow che produce di anno in anno, mediamente la nostra azienda ogni dieci anni rinnova completamente i punti di vendita e in questi dieci anni può succedere che possa essere applicato qualche ammodernamento mini. No, no, certo, intanto per chiedere una domanda di più, non so, devo fare qualche altra domanda perché credo di averle fatte, non le chiedo quanti camion bilici si spostano giornalmente dalla vostra sede centrale per andare e levare i punti di vendita. Le posso... Tanto così mi dica anche questo, perché la mattina alla vostra sede quando arrivano i camion fanno la coda, pori, cristi, da sede prima, prima di entrare per scaricare e caricare la merce, no? Eh, una informazione, come dire, aggiornata indica aver superato i 100 milioni di colli movimentati nel 2018. Eh, potatemi, provate a mettere uno vicino all'altro, si fa il giro del mondo credo un paio di volte. Va bene, abbiamo avuto tutto a montare, credo e spero, mi auguro che questa trasmissione sia stata di utilità anche per i nostri telespettatori, perché ovviamente l'alimentazione è una cosa molto importante che riguarda anche la vita e la longevità delle persone che vanno ad acquistare all'interno del supermercato. Grazie davvero di essere stato a montare. Grazie a voi, ringrazio tutti i telespettatori. Va bene, invece io do appuntamento a un'altra puntata di Primo Center Palace, a mercoledì prossimo, dove sarà una puntata sicuramente da vedere perché abbiamo degli ospiti molto importanti. Buonanotte.